ragazzi siamo un video di bro stars e oggi e ora proveremo la jesse e allenata raghi gratis per tutti già lo sbloccata io andate qui nel negozio da sbloccate allora il video oggi ragazzi proviamo la skin poi faremo delle missioni e poi alla fine del video vi lascio una clip e quella clip ieri il gadget di panna ok rega allora iniziamo iniziamo rega ho scelto di di fare fulcro così perché avremo giocato due tre partite in duo però schifo quindi gx ok ma era giocare due tre partite comunque rega per quelli che mi dicono pro le soriale lo sto registrando ancora perché lo devo ancora evitare senti allora se tipo noi facciamo aspettate mi guarda questa sconfitta della per questo sconfitta era sicuro sono proprio spazio c'è però c'è certa gente che scala allora se tipo noi facciamo così no comunque mi sono fatto anche vivi e vivi e già sia il 9 ok dove mi chiamate mi chiamate mi chiamate ok 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 che figa pregamo che figa la torretta bellissima la torretta bellissima una figata rega con la torretta bellissima la torretta bellissima si god taglato però come c'è Allora Allora comunque Sto anche pensando di portare tipo Fortnite No anche Fortnite Sto pensando anche di portare Ma delle news su Brawl Stars Se vi va Le posso portare se vi va Poi cioè non so Sto taggando come un porcello Ok rega Doveva essere vittoria 3,2,1 Via Sto un po' laggando scusate rega Che è uno che sono schifoso Ecco rega allora Esteticamente secondo me Jesse È una delle mie skin preferite Questa skin rega È una delle skin mia preferite Rega cambia la torretta Però il colpo non cambia quindi Allora rega scusate C'è una volta che è entrata Allora dicevo Esteticamente la skin di Jesse Questa linea di raggi è la mia skin perfetta È bellissima Allora non cambia il colpo Chiamo sulla torretta però La torretta rega è una cosa pazzesca rega Guardate rega che figata C'è una cosa c'è Una cosa rega illegale Comunque rega Comunque vorrei Se qualche cinese guarda questo video Senza offeso E Se vuoi andare tipo nel vostro paese C'è vuol starci Però senza offesa Comunque Allora Seleziono ancora Questa volta mi andrei in duo Comunque Comunque Allora Allora Siamo contro i I Tipo Cosa colpisce a caso Te Vabbè Oh Rega aspettate Rega sono morto Rega sono morto Che palla Rega sta taggando un casino Eh anche sto scemo di merda Dai Che palla C'è Allora Eh Per Dio Guarda sta taggando un casino C'è Però che palla Dio Mi sono morto Adesso Ok Siamo morto Morivo Però Ok Allora Rega guardate Sto bull GG Eh Però Questa torretta Mi uscite Però C'è Ok Ok Devo andare giunti Rega Devo andare giunti In me Eh Però Che palle C'è Che palle Vabbè Rega Sinceramente Io ne riesco a giocare Rega 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 Si Sperate Rega Ruttino io ho fatto un po' che stagano in modo a dir poco si rega si minuto è trovato un casino dai 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 Ok bruda Grande 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 Scappi brutto Pezzo di merda Scappi Scappi Allora Io faccio così Allora Grande Ok rega Spero che questo video vi sia piaciuto Arriviamo a 10 like per un prossimo video Dove tipo proviamo domani Dove proviamo Ovviamente non lo compriamo Oggi andiamo a vaggio Dove Do il mio voto Allora io Gli do Un 8 e mezzo Perché potevano anche cambiare il colpo Però Secondo me potevano fare il colpo Alla manubrio Beh Sparo cosa a caso Potevano fare Tipo Ehm Una cosa del genere Però vabbè Allora rega Adesso dovete trovare Adesso a finire questo video Troverete un video Dove troverò La star power di Paule Allora rega Arriviamo di c'è Un prossimo video Bye